Sì, l'abbiamo finito, fino a molti scadino, cioè, in più di volta, neanche io, sono molto terso di voler andare a prendersi, e il fatto che questa è la scelta di venti è, la scelta di più fuori, se la sua, 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 e quindi vogliamo fare un petto soltanto della nostra musica, come abbiamo noi, che è molto vigilante, però ci comprometti in stanza. Vai, vai, vai! Fica bene, Nati! 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 Prefissava tante! De rostrano Mauna a casa Offers好像 L gang камè Che gianno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.